Steph, quando andiamo, quando andiamo, quando partiamo, quando andiamo, Steph, ti prego, quando andiamo, quando andiamo Ti ho detto che è complicato, ci vuole ancora un pochettino Ma Steph, siamo da un'ora che stiamo aspettando qua, cioè mi vuoi far venire sonno Allora, sto facendo tutti i calcoli per indirizzare il portale e per farci arrivare nella dimensione dei dolci Sai quanto può essere complesso? Non mi interessa Non ti interessa, eh No, non mi interessa Non ti interessa perché tanto lo devo fare io e non lo devi fare tu Però ti sto dicendo che è complicato, devi far silenzio perché se mi distrai ci metto ancora più tempo Non ho più voglia di aspettare Allora, aspetta Tiè, tieni, mangiati queste per pregustare il momento in cui entriamo nella terra dei dolci Così mi lascio in pace e finisco di preparare tutto E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E sono Steph, che se ci chiama Minecraft Benvenuti di nuovo nel nostro laboratorio di Minecraft E oggi è una bella giornata, Steph, finalmente mi sta piacendo stare in questo laboratorio Te lo dico Allora Perché finalmente è arrivato il momento in cui stavo tanto aspettando Mi stai facendo faticare tantissimo, mi stai facendo sprecare un sacco di soldi che avevo tenuto da parte Però spero che con questo giro riuscirò finalmente a conquistare la tua fiducia A renderti una vera e propria scienziata che mi seguirà e finirà tutto Comunque questo qua è il portale Teoricamente, se ho fatto bene i miei calcoli, ci porterà nella dimensione dei dolci Non so se ho fatto bene i miei calcoli, Ferre Perché è la prima volta che provo una roba del genere È abbastanza complesso Quindi non so se funzionerà Come puoi vedere comunque è bellissimo Come non so se funzionerà Quindi almeno questa è una cosa positiva, no? È una roba bellissima Sì, Steph, molto bella Però non so se funzionerà Non ti preoccupare, Steph Sì, questo qua infatti è l'armatura Non mi sto armando Perché siccome mi hai detto che potremmo anche finire da qualche altra parte Sei com'è? Prendo delle precauzioni, ok? Sì, purtroppo non abbiamo neanche le armature in grazia di Dio Perché siamo abbastanza poveri come sempre Però noi proviamo ad entrare E vediamo come va a fare Se va tutto bene saremo nella dimensione dei dolci Con animali, terra, tutto fatto di dolci Sarà meraviglioso Se andrà male andremo all'inferno a morire E ci rimarremo E ci rimarremo pure Ok? Pronta? Sì, andiamo 3, 2, 1 Vieni, Ferre, dentro, 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 dentro Non impazzire, non impazzire, non impazzire, Ferre, stai calma Fantastico! Non è tutto di dolci Anche il portale è diventato di dolci, lo so Anche il portale è diverso Noi lo vedevamo come il classico portale di Minecraft Perché infatti eravamo nella nostra dimensione Invece qua è molto più carino, Steph È tutto caramelloso, hai visto? Lo so Ma questi non ce li danno Speriamo di avere tipo la zucchero filato È stato bello No, 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 no Non possiamo ricavarne Non possiamo ricavarne nulla Allora, comunque Benvenuta nelle dimensioni dei dolci Io le avevo promesso che l'avrei portata qua Ci siamo riusciti Però le devo dire un po' di cose Prima di tutto Questo qua è un mondo dove si può totalmente vivere, Ferre Quindi se tu vuoi farti la tua serie Che nessuno guarderà mai Dove tu vivi nel mondo dei dolci Lo puoi fare C'è un crafting Esatto, sì, lo farò, Steph A parte c'è un sacco di roba E ci sono anche dei boss trovabili in giro Che si possono sconfiggere Ma boss di caramella o boss cattivi? Sì, 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 boss di caramelle Ma li dobbiamo trovare, Steph Eh, ma li dobbiamo trovare Abbiamo le spade, Steph Non è un problema Eh, ma sono in pietra Ma pazienza, Steph Pazienza In ogni caso Io ho pensato Prendiamoci un po' di materiali Ok No, mamma mia Questa qua ogni volta che gira un angolo E impazzisce, Consolini Sarà difficile riuscire a fare qualcosa di buono Prendiamoci un po' di materiali Perché così ci craftiamo qualcosina Ok Perché teoricamente Questi oggetti ci permettono di craftare Delle cose fantastiche Puoi venire un attimo a vedere questa roba? Cosa? Cioè, questi tronchi Sono fatti di marshmallow Ok Ok Puoi vedere? E il legno trasformato in planks Diventa così No, vabbè, che bello Immaginate una casa tutta rosa, Steph Lo so Che bello Che bello Tieni, te l'ho rubato Sono alberi di cioccolato bianco Guardali Guardali che carini Ma sono fantastici Sono troppo belli Ti ripianto qui, bell'alberello Cresci Ok, io qua Vai Fere Dimmi Guarda cosa ho creato Che cos'è? La crafting table No, davvero? Sì Mi sembrava un blocco normale Sì, è una crafting table Allora Vediamo se riesco Steph, tutto Minecraft dovrebbe essere così Lo sai Lo so Cioè, stiamo pensando tutti questa cosa No Perché anche i console stanno pensando Che Minecraft dovrebbe essere tutto così Sempre Minecraft dovrebbe essere sempre così, Steph Sempre È bello, eh È bello Lo so che è bello Però È tutto rosa È buono oltretutto Vediamo se Steph ha studiato abbastanza bene la dimensione dei dolci Perché teoricamente Mi ricordo che si possono fare delle cose che ti farebbero letteralmente impazzire Allora, vediamo se ci riesco Io faccio così Trasformo questi Vado nella crafting table Li metto così Faccio così Faccio così Così Ok Pronta? Sì, pronta Tieni È di marshmallow Lo so Che bello Puoi fare tutti gli attrezzi del gioco Voglio una spada, Steph In caramelle, cioccolato e così via Aspetta La spada di marshmallow, dai Chi è che non vuole una spada di marshmallow? Non possiamo vivere senza Ovvio Oppure mi sclicato Tieni Ecco qua Se vuoi andiamo in giro, Steph Andiamo a esplorare un pochettino Ok Sì, andiamo un po' di esplorare, infatti Perché ci saranno sicuramente un sacco di materiali interessanti Ma che bellini anche i fiori che ci sono nell'acqua Eh sì, quelli che stavo guardando prima nell'acqua Quando mi ha insultato Dicendo che impazzisco per tutto Eh no, sono davvero carini Questi devo ammetterlo anche io Vedi, ma qui è tutto ancora più rosa La foresta è bellissima Diventa tutta rosa Ma rosa proprio per essere rosa Lo so Allora, questi alberi di che cosa sono invece? Fammi vedere un pochettino Dark marshmallow Perché c'è il light marshmallow Eh sì E il dark marshmallow Eh certo, è normale Facciamo una casetta in sta zona Guarda, qui di fronte al laghetto, Steph Scendi Allora, dove sei finita? Qui sotto, vai dritto, dritto Dall'altra parte Ok Eccomi Bello Guarda che bello qua Va bene Di fronte al laghetto, strabello Ok, allora prendo Aiutami a prendere un po' di legna Che qua No Cosa? No No? Non ne voglio Bene Non ho una ascia, Steph Se me la fai magari sì No, no, no Dai, ma le nudo è un po' Non te la faccio Vai a dare pugni agli alberi Va bene Tanto sono fatti di marshmallow Quindi non ti fai neanche male per una volta No, sono duri come la legna però, Steph È il marshmallow quando si indurisce Ah, quando lo lasci dieci giorni a stagionare Esatto, esatto Ok, ok Quindi non è proprio il massimo Però, vabbè Comunque no A parte degli scherzi Dovrei avere già parecchia legna Il dubbio che mi è venuto è Come si fa il vetro In un posto del genere? Non lo so Perché noi dobbiamo avere delle finestre Cioè, da qui che cosa ottengo? Fatemi vedere un pochettino Faccio così Floor block Magari facendo la fornace Che non sappiamo neanche come si fa la fornace Perché effettivamente cosa c'è al posto della cobblestone In effetti È tutto da scoprire in questo mondo, Ferena È una roba incredibile Vieni, Steph, un po' di legna Ah, sei stata brava Grazie Ok, allora, sei pronta? Sì Scegli il punto della casa Vabbè, facciamo che io te lo sormo tutti i blocchi e te li do Ma qui la volevo Mentre lei costruisce un pochettino Io vado a provare a scavare Ciò che a me sembra la cobblestone di questo mondo Ma sapete che forse la cobblestone è cobblestone? Beh, mi sembra cobblestone Sì Vero? Boh, può essere Non lo so Cioè, non l'ho vista, sinceramente Non sono andata in giro La cobblestone è cobblestone, Ferena Ah, ok Ok, e questo però che cos'è? Ciò che c'è al posto della terra La chocolate Cos'hai trovato? La chocolate cobblestone, Ferena Oh, mio Dio È bello, però Dittemi che posso fare una fornace Con la chocolate cobblestone E quindi fare la fornace di cioccolato Eh, sarebbe bello Vi prego, ditemi che posso Prendo un po' di materiale e arrivo a fare Ferena sta tipo nevicando zucchero Ho notato Le tempeste qua sono di zucchero Quindi non fanno paura a Steph Sì, però è un po' fastidioso lo stesso Andiamo nella casetta Bellina la casetta che hai fatto comunque Eh, vabbè, dai Avevo pochi blocchi Ok L'ho fatto un po' così al volo Allora È una porta, Steph La porta non dovrebbe essere un problema Ok La cosa che mi sta preoccupando è il vetro Perché non capisco bene come si possa fare Allora La porta che sta qua E so che è fantastica Eh, sì Ok Voglio vederla anche da fuori Aspetta, sì, è fantastica Ok Ok, sei soddisfatta Per cui, invece Io non so Se noi possiamo fare qualcosa di particolare Magari così Non lo so, Ferena Perché Cioè, il chocolate cobblestone Eh, sta entrando lo zucchero filato in casa, Steph Dobbiamo mettere i vetri Eh, lo so, Ferena Lo so Però non trovo il modo Guarda, l'unica cosa che ho trovato è questa Secondo me ti piace un sacco La chocolate cobblestone Però sembra inutile per craftare Eh, sì Però è carina Però è carina Finita la tempesta, Ferre E la casetta è praticamente completata Certo, manca il vetro Però Quello è un dettaglio Poco importante Allora, Ferre Ti dico una cosa Ok Tutto molto bello Abbiamo fatto una casetta carina Ci stiamo divertendo in questo mondo Ma la cosa più fantastica Che secondo me c'è Non l'abbiamo ancora incontrata Quindi Per favore Torniamo un po' ad esplorare Perché Ok Steph, quest'oggi ti deve conquistare al 100% Hai ragione E quindi Bisogna sfruttare tutti i colpi Che ha questa dimensione Vuoi sapere di che cosa stiamo parlando? Degli animali, vero? Esatto Perché se ci sono i boss Ci sono anche gli animali Esattamente Per forza di cose Che noto che sono un po' timidi Esatto Non ne abbiamo incontrato neanche uno Un po' la tristezza, Steph Sì, sì Non sto capendo È un mondo vuoto Come mai questo mondo è così desolato? Forse Sono tutti Forse li spaventi tu Beh, impossibile Può essere con la tua voce Magari li fai scappati Ma sono carino Devo iniziare a bisbigliare Bisbiglio Se lo dici bisbiglio Ma è Eh Li troviamo Non lo so Adesso non mi sento Ma lì torna, Bianco Ma perché fa la voce mafiosa Se devi bisbigliare? Non lo so, mi esce quella, Fer Ancora niente animali, Fer Ma finalmente abbiamo trovato Una costruzione del mondo È una specie di glu Sì Zuccherato Esatto Allora, aspetta Uso i miei blocchi di cioccolato Per scalare Vieni, 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 vieni Ok, si aspetta Mangio anche un po' di carne Che mi aumenta fame Ok Ce la fai, Fer Eh, più o meno Aspetta Devo mettermi un blocco anche io Scusa Andavo benissimo Mi stavo facendo la scaletta, Steph Apro la chest Oh mio Dio è pieno di cose Allora Eh, questa però la voglio io, Steph Hai preso la dinamite, vero? No Fer Hai preso la dinamite Vogliamo provarla, Steph Waffle Lugget, certo Cos'è sta cosa? 20 di queste emblem To begin the end of the world Ok Dice che se collezioni 20 di queste On a emblem Ok Puoi tipo azionare la fine del mondo Non so di che cosa parlano Ma non voglio la fine del mondo Ma perché mi devono mettere queste cose strane e cattive, Steph? Non lo so, Fer Inoltre ho trovato un mysterious egg Guarda Ti faccio vedere Che non ho idea di che cosa sia Però potrebbe essere questa la risposta del perché non ci sono creature viventi in questo mondo, Fer Eh, sì, può essere Oltre al fatto che quell'arma di distruzione tale mi preoccupa Vai Usala Tanto siamo tutti Ma Fer Ma non si lancia? No, io prontamente Aspetta che mi stai incastrando Mi hai tolto metà vita Eh, mi sono messa in game mode perché ho detto qua se no ci esplode Mica, scusa, sono una sproveduta Eh, ma hai preso a me E uso le dinamiti prendendo Me le spaccate in faccia Vabbè, che ti aspettavi, Steph? Lo so che è una dinamite di chunga Ma io pensavo alla lanciassi Steph, aiuto Ma cosa ti è successo? Non lo so, mi incastro lì sotto È un buco strano Ok, basta Questa ventura è andata male in tanti sensi, Fer Sinceramente Però io sono comunque felice Vabbè, è normale, dai, Steph Siamo alle prime armi Non abbiamo ancora tutti i mezzi Facciamo così Non torniamo più in questa dimensione perché c'è qualcosa che non va E c'è... è un posto un po' strano Ci teniamo quell'uovo Provo a studiare quell'uovo Ok Ok E vediamo se scopriamo qualcosa a riguardo Se scopriamo qualcosa a riguardo Possiamo pensare di tornarci in futuro Per scoprire che cosa sta succedendo in quel mondo Torniamo per forza Vero? O no senza uovo È ovvio, ovvio Per ragazzi, se ci siete tutti lasciateci un like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Ed iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao, alla prossima Ciao, ciao 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 Ciao